con tutto il cuore ma non ci sono ragazzi non ci sono metodi per fare ci sono ma sono quelli vi ci mettete per 3 mesi di fila 24 ore su 24 altro che 600.000 credit ragazzi ultima cosa tra un po' penso che entrerò in collaborazione con quando arriveremo a un tot di iscritti perchè siamo ancora solo 18 ragazzi e 19 entrerò in collaborazione con una pagina e la sponsorizzerò per i crediti ragazzi dove ho comprato veramente molti molti crediti ed è perfetta però sinceramente vi dico la verità io li ho passati su io ho un altro profilo sempre nel FIFA dove ho comprato altri crediti ovviamente la formazione qua è molto più forte questo è il mio profilo principale adesso però sull'altro profilo mi sono fatto passare i crediti per fare altre cose questa ragazzi è la mia formazione come avete già visto ragazzi molto buona Lewandowski Royce Ribery Vidal Gozze buona formazione anche Zaglaskosta ragazzi assolutamente ottimo giocatore non è perfetta ragazzi mancano ancora dei giocatori uno di questi è Boateng un altro è Lamme e un altro ancora è il più costoso di tutti che è Arien Arien Robben ragazzi guardate Ribery ok ragazzi siamo pronti per partire Shaogi Squad come si chiama contro Mariners che è la mia squadra al Camp Nou allora si parte subito con Bella Rabi attenzione in questo mi sa che non sta giocando lo andiamo subito a colpire se non sta giocando no sta giocando sta giocando sta giocando ma non si capisce a cosa sta giocando perché non mi toglie il pallone Royce Royce ho parlato e fallo pasto pezzo di merda Royce mamma mia ragazzi miei col cazzo che ti faccio passare forza di giocare ragazzi con amici paresi sto imparando a parlare paresi anch'io quasi allora Benatia ragazzi togli un gran pallone però ragazzi vi do un consiglio grande soprattutto se avete la difesa a tre i difensori centrali non li muovete ragazzi se no la squadra si veramente succede un casino perché avete dei buchi in difesa che neanche voi lo voglio dire se poco poco muovete i difensori centrali male male cercate di non farli mai avanzare ragazzi adesso cerco di parlare un po' di meno non per niente ma perché se no prendo col porca puttana guardate oh non è possibile un'azione ha fatto un'azione ha fatto chi è quel coglione Umbels che micchia fa su quell'altro che sei centrale no raga non si può più giocare a questo però guarda questo mi deve far vedere anche chi ha segnato ma vaffanculo vedici uno non si deve incazzare cioè ragazzi ho fatto tre video prima ho vinto tutti tre le partite e nella tre volte via la corrente se va via anche questa volta forse sarebbe buono l'unica volta che sto perdendo tanti crediti li perdo comunque però almeno non è neanche carico questo perché una cosa è caricare un video dove vinci una cosa è caricare un video dove perdi poi perdere contro questo non mi sembra veramente il caso tira no raga non si può giocare oh perché troia oh vediamo un po' se riusciamo a battere una posizione come dio comanda eh Royce dove a me no 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 non si può ma guardate non preme a me ragazzi la gente che non preme x che fa su xbox non lo so comunque mi fa incazzare perché io dico ma che cosa state facendo perché non dovete premere x perché non dovete premere x dovete vedere tutto il replay è tutto ma mica siamo allo stadio mica siamo veramente a vederci una partita dai su dobbiamo vedere il replay e pensa a giocare questa partita va poi raga poi lagga mamma mia mamma donna non ci riesco a giocare con quelli che laggano mi fanno veramente incazzare in una maniera madò madò non ci riesco proprio a giocare guarda adesso ne fa un altro perché mi sembra giusto due tiri due gol dai rois si vabbè chi cazzo è quello che corre più di rois no però riesco a giocare ragazzi ormai mi sono incazzato adesso ne prendo un altro è sempre così e dai raga io poi urlo come un matto ma non riesco non riesco a giocare così cioè giocare così ragazzi perdere in questa maniera non ci riesco dai dai che la scosta dai dai rigo e dai e cadi dai che la scosta mannaggia la troia dai 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 non sto facendo un'azione lo sto ammazzando eeeh roi dai ti sbagli tutti no no buttalo fuori porca troia dai cioè ragazzi dimmi se è normale un giocatore come rois sbaglia questi cioè no raga è assurdo è assurdo guai continuano a premere x questo no raga ti giuro vorrei far perdere 8 a 0 non 8 a 1 perché a me un gol me l'ha fatto questo pezzo di merda e se guardi il mio video te lo dico sei un pezzo di merda perché non premi x non mi interessa eh ragazzi qua scusate lo so esagero dico molte parolacce ragazzi ma non non ci riesco io a giocare così ragazzi è veramente più forte di me cioè giocare così no giocare così no ma che senso c'ha che fai un tiro e fai un gol Arturo fa venire la dose ti giuro ti venga a sparare è in germania guarda quanto è vero dio Gesù ti prega aiutami tu Gesù ti prega aiutami tu dai dai ma perché pure sta cosa pure sta cosa no poi ditemi ancora che il momentum non esiste lo script su FIFA non esiste ragazzi no non esiste apposta io la passo a uno stranamente Lewandowski che alto eh ecco qua ma chi cazzo la dai che ti ho detto di darla a quello che era partito no eh se lo sbaglia è lo script oh Lewandowski la dobbiamo vincere questa partita ragazzi la dobbiamo vincere noi allora ragazzi comunque parlando un altro po' del canale sono rimasto molto deluso e dispiaciuto sull'ultimo video soprattutto caricato da me che ha avuto tre dislike e zero like ragazzi perché mi è dispiaciuto perché cioè voi quei dislike che me li avete messi io so però perché aspettate che mi c'è il joystick in carica perché eh dite eh ma tu ci devi fare video dove si guadagnano molti più crediti raga ma se non ci sono altri metodi per guadagnare più crediti che devo fare io io ripeto oggi pomeriggio cioè tra poco pubblicherò un altro video il prossimo però sulla compra vendita ragazzi quindi vi porterò di nuovo i metodi un nuovo metodo soprattutto no si era disconnesso al joystick si era disconnesso al joystick porca puttana non ce la faccio più raga non ce la faccio più no raga io non ci gioco più a questo gioco non ci gioco più guarda mi ha segnato per male ma mi sembra normale una cosa del genere non è possibile questo pezzo di merda no ha dovuto segnare io te lo continuo a ripetere sei un pezzo di merda sei un pezzo di merda tu non sai cosa cazzo ti sto curando guarda non sai cosa cazzo ti sto curando non posso dirlo perché questo video andrà su youtube dai vediamo subito la partita dai dai voglio il 2 a 2 subito vai bene la rabbi traverso cattolo sbaglio è chiaro lo sapevi oh vattene affanculo 2 a 2 ragazzi dai così ecco la tosse mamma mia ragazzi sto ancora male si sente però ragazzi io non ce la faccio a giocare così c'è il mio ammalo ragazzi questo questo qua poi c'è è proprio tiè tiè vai Lewandowski vai vai sei tutti noi sei tutti noi sei tutti noi ahhh Naldo attenzione per Arturo Arturo quando il gioco si fa duro Arturo quando il gioco si fa duro Arturo Arturo quando il gioco si fa duro lo pensa Arturo poi serve Mario Cozze che però non continua perché ho fatto muovere Hummels e raga attenzione bella rabbi bella rabbi bella rabbi ma cazzo ma fai una skin come il dio comanda però farmi un semplice doppio passo che lo so fare anch'io ben attia è passato è passato Royce attenzione e sbaglia il cross e me mi sembra ovvio perché se lo faceva bene segnavo quindi lo fa male perché dice no non è giusto segnare eh eh e gli esports perché non devi farmi vincere una partita ma qua perché perché mai dovresti farmi vincere una partita guardate qua Arturo da quando fa questi tiri al volo spettacolari eeeh Royce non la prende eeeh porca troia spaccoduto eh raga sono deluso 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 eh comunque riprendo un po' parlare del canale ragazzi oggi caricherò se riuscirò tre video due sicuri uno ragazzi che sarà questo cioè un gameplay un altro dove vi porterò un nuovo metodo di compravendita e un altro su GTA spero che ovviamente il canale come ripeto ecco qua ah che culo come ripeto il canale avrà come diciamo diciamo un obiettivo non mi viene il nome come argomento ok come argomento principale avrà eh fifa ragazzi e continuerà eh dai passala però Lewandowski avrà come argomento principale fifa però ovvio io devo anche caricare altri video però che posso caricare solo fifa perché ho caricato troppo e cioè vorrei provare a caricare GTA magari avrà delle riscossioni positive spero che vi piacerà il video che farò su GTA devo decidere se caricare un gameplay cioè su un gameplay se caricare un non lo so un video dove dove giocherò un Deadman magari un Maggione o se magari se magari pubblicarvi un video dove cazzeggerò nel vero senso della parola in sessione poi lo deciderò vedremo un po' voglio vedere un pochettino ci devo pensare devo vedere comunque lo pubblicherò ne va poco oh Gesù no no raga io non ne do no raga è impossibile per me continuare cioè Ribéry che si fa togliere palla in quella maniera poi ragazzi sono veramente sto facendo schifo cioè ho un po' di tempo ragazzi non riesco più a giocare a questo gioco dai che c'è solo Lewandowski dentro no vattene affanculo ah 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 Ribéry 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 guarda ah spento va benissimo ragazzi acquittato è una cosa bellissima questa beh sinceramente dopo che ho preso quella traversa quella pippa di bella rapi prende traversa a porta vuota sei un pezzo di merda perché dovresti capire che hai il come cazzo si chiama lui il 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 momento me lo script io l'ho contro quindi non diciamo cazzate scusate ragazzi sto male non diciamo cazzate è così sei una grandissima pippa allora ragazzi da qui è tutto sono felice di avervi aiutato spero di avervi aiutato magari non di avervi aiutato però di avervi spiegato bene come sarà il canale in futuro nel presente in tutto spero di esservi stato utile spero che il video vi sia piaciuto abbiamo vinto ragazzi adesso divisione 7 come avete visto il mio problema si risolverà tra poco vi assicuro che tornerò subito in divisione 3 giusto il tempo però un'altra cosa ragazzi vi chiedo iscrivetevi al canale ragazzi perché dobbiamo crescere siamo pochissimi ragazzi non è per dire però siamo veramente pochi il canale deve crescere seconda cosa ragazzi lasciate un like perché è molto importante per me io lo so che magari il video non vi è piaciuto se non vi è piaciuto ragazzi mettete un dislike come volete preferirei di no ovviamente però io vi chiedo like vi chiedo di iscrivervi al canale e tra poco pubblicherò un altro video sulla compravendita di fifa 16 tra il tempo di caricare questo metterò a caricare quell'altro buona giornata a tutti ragazzi da qui è tutto al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti